Tante persone che si battono e mostrano ciò in cui credono possono fare la differenza. Nessuno ci chiede di essere massimi esperti di tutto, ma sulle questioni basilari come il diritto alla vita non si può stare in silenzio. La possibilità di rimanere in silenzio è il frutto di un privilegio di cui si disporre e può anche essere interpretato come assenso nei confronti di ciò che ogni giorno accade. Chissà cosa succede e non agisce perché ha paura di occupare una posizione sconda, ma è proprio questo quello che dobbiamo fare, dobbiamo scomodare. Non ci accorgiamo di tante realtà che ci circondano, ma una volta presa la loro resistenza è impossibile ignorarle. È per questo che oggi siamo qui anche noi, perché loro devono urlare mentre a noi basterebbe sussurrare. Grazie.